Originario di Livingston, New Jersey, si laurea alla New School di New York Fino al 2003 si esibisce alla Upright Citizens Brigade di Atere Continua Poi, a Los Angeles in spettacoli come Dead by Rulu e Ascat 3000 È anche membro del gruppo comico Chubby Skinny Kids con Dan Gregor e Dagemey Andy Appare sul grande schermo in Motel Woodstock e Salat e rimane sul piccolo schermo in The Colbert Report e Californication Nel 2011 è protagonista a fianco di Alicia Cuthbert, Zachary Knighton, Casey Wilson, Eliza Coupe e Damon Wayans Jr Nella commedia dell'ABC Happy Endings Nelle versioni in italiano dei suoi film, Adam Pali è stato doppiato da Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione